ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con fifa 22 carriera allenatore allora c'eravamo rimasti che era iniziato il mercato e io dovevo comprare un centrocampista e un ala perché i giocatori che avevo sono tornati dal prestito nel loro squadra e le loro squadre li hanno ritirati dal prestito io ho selezionato un paio di profili per sostituire questi giocatori come centrocampisti ho selezionato c'è questo qui chiamerò Orkun del Fenejord però costa un tantino tanto ho selezionato Castrovilli della Fiorentina che anche lui costa un po' non so se riuscirò a prenderlo poi ho selezionato Elmas, Cruisans, Vencedor anche lui costa un pochino Moreno dell'Atletico c'è Blanco del Real e Coin Credì del Valencia come ala ho selezionato c'è Ilias del Barcellona e Unas del Napoli anche se le ali è il mio ultimo pensiero perché avrei il Giovane della Primavera Sorrentino come sostituto sia a sinistro o a destra anche perché abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia quindi potrebbe anche andare bene un solo sostituto però vediamo se riusciamo a prendere entrambi meglio allora io vorrei andare su Castrovilli che conosce già la Serie A e vorrei provare a portare a Sassuolo Gaetano Castrovilli proviamoci i carichi chiedono un prestito? no, è certo che no andiamo a provare l'acquisto del 24enne allora vediamo se posso inserire qualcuno come contropartita tecnica allora del centrocampista beh questo non lo accetterà mai Magnelli anche perché il 650.000 quanto posso risparmiare? proprio poco le ali non si tocca nessuno gli attaccanti non solo due quindi non si toccano i difensori non si toccano i terzini non si toccano i portieri non si toccano quindi no devo fare un'offerta secca e io provo con 15 milioni di euro e ci aggiungo una clausola del 3% sulla futura rivendita vediamo cosa dice la fede eh 24 milioni e mezzo potrei pure accettare perché puoi avere 143.000 per fare gli due stipendi e penso che bastano però poi non posso prendere l'ala cerco di risparmiare qualcosa allora arrivo a 16 milioni di euro per Castrovilli 24 e mezzo la Fiorentina è fissa arrivo a 17 voglio andare al massimo a 20 milioni non di più dai 17 me lo potresti fare 19 facciamo così 18 milioni e non se ne parla più dai 18 milioni 18 e mezzo dai no dai fammi risparmiare questi 500.000 per lo stipendio su 18 milioni oh ha accettato la Fiorentina quindi preso Castrovilli a 18 milioni di euro l'acquisto top diciamo perché comunque per le finanze del Sassuolo di gennaio quindi arriverà eh lui potrebbe giocare anche titolare Castrovilli infatti gli metto ruolo importante lo accetta durata del contratto facciamo 4 anni quadriennale non aggiungo clausola sono d'accordo non aggiungerei la clausola accessori a stipendio 33 mila gli levo però il bonus presenza il bonus in ragione mi può andar bene accetta quindi arriva Castrovilli il top acquisto del mercato di gennaio andiamoci subito a mettere un piano di crescita piano di crescita messo la maglia la maglia dovrebbe essere la 10 però non mi sento di dargli la 10 il nuovo acquisto quindi gli metto la 20 va la 20 mi piace la 20 78 quindi sì si può giocare il posto da titolare assolutamente magari migliorerà anche tanto e adesso ho 2 milioni e 64 vediamo se riesco a prendere due delle ale selezionate se no rimango così faccio un solo acquisto vediamo magari se me lo cedono in prestito no la durata del contratto è troppo breve quindi magari non pago la clausola ma perché scusate come posso pagare 6 milioni e 8 della clausola se ho 2 milioni perdonatemi come faccio a pagarla sarà un bug no inizio la trattativa con club forse togliendo lo stip cioè mettendo i soldi dello stipendio gli stipendi arrivo a 6 milioni e 8 bu io mi ricordo che quando non la potevi bagare la clausola non te la non te la mettiamo va quell'opzione spaga la clausola direttamente la trattativa ma mi sbaglierò io allora faccio così una prova un milione e mezzo più Francesco Magnanelli vediamo se accetta il Barcellona vogliono 2 milioni e 2 con la clausola dell'1% ma la clausola dell'1% te la posso anche rimanere faccio 1 milione e mezzo 1 milione e 8 vabbè dai accetto però la clausola torna all'1% su come prima 1% 1 milione e 8 3% vabbè dai te lo concedo col 3% comunque se lo andrò a rivendere ci guadagno prendiamo anche Ilias che se avrà un buon overhaul se crescerà potrà essere comunque un acquisto anche per la prossima stagione allora ti do promessa vediamo se accetta sporadico va bene accetto 5 anni di contratto stipendio quando ti posso dare un 20 mila e ti metto anche 200 mila di bonus in viaggio dai dovresti accettare mi sembra un'offerta eco bene andiamo anche a mettere il numero a Ilias il piano anche di crescita no assolutamente non la 9 che è sta 9 ti metto la 27 va a 68 non male 17 68 può andar bene può andar bene allora metto Alan Vertida così migliora anche la finalizzazione e andiamo a giocare Sassuolo Milan siamo secondi a fare punti col Milan almeno 2 dalla Juventus ma sarà un match difficile questo col Milan si va in scena se l'attacco dei padroni di casa si confermerà anche oggi il migliore del torneo si parte si parte due nuove acquisti sono in panchina la prima non ho venuto farli esordire da titolari Castrovilli potrebbe entrare sicuramente nel secondo tempo non so Ilias perché comunque abbiamo il Milan chiude tolian molto bene molto bene Tio Ben Nanser eh io questa partita la vedo difficile da uscire con un risultato positivo siamo comunque contro il Milan qui bravissimo Andanovic dopo l'episodio scorso ancora che si conferma Sandandanovic tolian il cross all'interno tentativo di testa qui mi hanno schiacciato Raspadori veramente è inammissibile che non sia stato fischiato un calcio di rigore Raspadori si tocca anche il braccio quindi temo un infortunio speriamo di no perché il nostro centroavanti al momento non dico più forte però più in forma rispetto a Scamacca Rogerio poi dovremo giocare con un solo con una sola punta centrale normale che il mercato è ancora attivo quindi male che vada che sia un infortunio grave L'Opessa è qui il miracolo del portiere Mike Raspa speriamo che resista se avrà la crocetta ancora all'inizio del secondo tempo lo sostituisco uscirà anche Raspadori che nel gioco si ferma Enrique Lopez bella per Pogà Pogà Jeremy il cross in aria non l'ha chiuso molto bene Ben Serre Leao Aspas Andanovic rinvia una palla deliziosa per Salenekers che poi tira Andanovic e poi sulla ribattuta si era superato Andanovic ma Abrahim Diaz va a gonfiare la rete il numero 10 del Milan al 61 segna il suo sesto gol in 16 partite siamo sotto siamo sotto ed era prevedibile Danovic ha fatto dati per acoli non si può prenderla con lui anzi aveva parato anche il primo tentativo poi sulla ribattuta il Milan ha segnato occhio a Boga questo è fallo giallo netto anche per Florenzi 33 metri la batte Lopez ma curta Traore il cross dentro per Raspa dai si si gonfia la rete Enrique ribatte di testa e pareggia il Sassuolo ha pareggiato vai così questo Sassuolo è forte questo Sassuolo è forte e pareggia Enrique con un colpo di testa da distanza ravvicinata Pem supera il portiere ed è 1-1 Enrique perché non abbiamo perso e va bene così non è bene così saliremo a quota 38 punti 8 di Riannove è stata anche equilibrate abbiamo avuto anche il maggior possesso palla quindi partita il pareggio è un risultato giusto secondo me il pareggio siamo lì siamo lì secondi sempre secondi abbiamo pareggiato con il Milan la Juventus deve ancora giocare quindi se vince andrà a 42 punti e quindi andrà a più 4 gli abbiamo fatto un favore fermando il Milan va bene questa posizione di classifica è importante 38 punti 18 partite sono tanti ci mancano 2 punti per raggiungere quella che è diciamo la salvezza perché la salvezza di solito si pensa di raggiungere 40 punti si è raggiunto quindi l'obiettivo proprio minimo 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 è già raggiunto si può dire andiamo a vedere le condizioni di Beratti Beratti 5 giorni va bene va bene va bene 5 giorni va bene prossima partita è contro il Genoa andiamo a simulare fino a Genoa questa la gioco con il Genoa e poi gioco anche la Coppa con la Roma quindi oggi 3 partite e non si simula niente sono 3 notifiche vediamo di che si tratta offerta per il trasferimento di Raspadori offerta per il trasferimento di Frattesi e offerta per il trasferimento di Frattesi assolutamente no sono due giocatori che per il momento io voglio confermare quindi non si muovono anche Raspadori 20 milioni può valere anche di più ma il nostro centro avanti non parte almeno per quest'anno non parte poi valuteremo a giugno il da farsi la Juventus ha vinto come era prevedibile quindi ha 4 punti di distacco giochiamo ora contro il Genoa vediamo Raspadori no chi è un'offerta per Maxi Lope Maxi Lope 5 milioni e 7 più un certo Ritz come da vedere cdc no io lo volevo togliere che poi se lo sono richiamati loro in presso del cdc rifiuto anche perché Lope lo voglio confermare sai quanto sia importante per noi ci penserò Rogerio ma giocherai sicuramente sei il titolare sulla sinistra però entrerà Raspadori ma dalla panchina si è comunque recuperato da un infortunio e quindi preferisco reinserire Scamark anche per variare giochiamo contro il Genoa settimo in classifica quindi occhio a non sottovalutarlo sarà sicuramente una squadra forte sarà una trasportatura non perdiamo altro tempo andiamo subito sul campo dai 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 Sassuolo occhio subito gol subito gol del Genoa fatto un gol pazzesco si borra grande gol non me l'aspettavo non me l'aspettavo una partenza così lampo da parte del Genoa secondo gol in 18 presenze per Siborra Almada pericolo sventato Escamacca ah viene chiuso no ma si infortunia pure Scamacca ma no ma ogni contrasto che mi fanno questi attaccanti subiscono l'infortunio ma che re ma che re speriamo che sia di 5 giorni pure per Scamacca a questo punto o che si riprenda a partita in corso maledizione attaccanti che infortunio ed è gol ed è gol Almada non me l'aspettavo nemmeno questo Almada la pareggia Almada la pareggia grande Almada grande Almada dicevo maledizione attaccanti che si infortuni ce lo metto pure nel titolo del video maledizione attaccanti la maledizione dell'infortunio per gli attaccanti Scamacca ah però Scamacca si è ripreso o cadde di nuovo non me lo non me lo infortunato occhio rosso per Sturaro rosso per Sturaro il Genoa rimane 10 è costretto anche a far uscire Ziborra che aveva fatto gol e noi possiamo approfittarne vai Boga vai Boga e the goal Boga Boga e poi fa questo ballettino con i compagni Jeremy Boga 2 a 1 2 a 1 cambiano le cose 2 a 1 rosso per Sturaro e noi ne approfittiamo e diamo saluto un vantaggio Berardi 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 e poi a porta vuota Castrovilli Castrovilli deve solo buttarla dentro e segna il gol al debutto da titolare debutto da titolare va a segno Castrovilli è al posto giusto al momento giusto e firma il 3 a 1 ai danni del Genoa Genoa potrà reclamare contestare il fatto che l'espulsione magari ha potuto farsa la partita ma se c'era c'era perché si è andato a fare fallo 3 a 1 nostro occhio però a non regalare palla che il Genoa dimostrato con il gol di Sibor di poter colpire anche da fuori Semir in due calcio d'angolo anche se poteva fischiare perché il calcio d'angolo è stato assegnato dopo il minuto di recupero Almada che gol di Almada che gol di Almada sul primo pal il portiere non riesce a pararlo e Almada si prende questa doppietta e occhio perché Almada potrebbe scavalcare le gerarchie per ora è un'alternanza tra lui e Traori ma occhio 4 a 1 alla fine di questo primo tempo visto il distacco io direi dato che ho anche il controller che si sta scaricando vado al risultato va a finire che non ce la faccio a fare la partita con la Roma 4 a 1 va bene così va bene così parte Roma Sassuolo ho fatto un po' di turnover ho cambiato qualche giocatore per farli giocare poi ovviamente è vero io punto anche alla Coppa Italia perché è una porta per l'Europa però la priorità è sempre il campionato è giusto fare un po' di turnover anche se abbiamo quella Roma che è una squadra forte Boga chiuso Mancini Pellegrini occhio non è facile questo ottavo poteva capitare poteva andarci sia molto peggio però poteva andarci anche un po' meglio magari scontrare una squadra metà classifica ci avrebbe permesso di giocare con meno pressioni perché la Roma magari anche con qualche cambio in più tipo c'era Ruan che mi aveva chiesto di giocare però non posso mettere mi peso un 64 con la Roma Raspadori vai Raspadori Boga Boga Jeremie punta al cross dentro Raspadori Raspadori l'ho messa Raspadori di testa grande inserimento di Giacomo Raspadori grandissimo il cross di Boga qui straordinario Boga che pesca Raspadori che di testa supera il portiere ed è gol siamo in vantaggio all'Olimpico primo gol di Raspadori in Coppa Italia quanto è importante Raspadori per questo Sassuolo attenzione a Pellegrini mentre Nice no 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 gol fallo gol pareggio della Roma al 76esimo con Pellegrini che peccato questo vuol dire che l'incubo preliminare si fa vivo esce Traoré dentro la carta ma non ho messo Almada è vero non ho messo Almada aia non ho messo Almada ora si fa così Traoré rimane dentro Scamacca anzi no Sorrentino passa a sinistra esce Boga dentro Berardi ecco la prima carta è Berardi non faccio subito il secondo canno il terzo perché se ci saranno supplementari è vero che ci sarà un quarto cambio ma almeno le utilizziamo lì le forze fresche esci Buffon palo e poi la ributta dentro abbiamo avuto una botta di culo invece no l'86esimo Gomez la butta dentro e mi sa che siamo fuori dalla Coppa Italia facciamo anche gli altri due cambi perché tutto per tutto ormai il cross no Mimmo non così abbiamo perso dai figna ora mette la nice io l'avevo detto per vincere cioè per pareggiare non bisogna perdere palco ora ci fanno loro il terzo si pellegrini 3 a 1 3 a 1 della Roma brutto scivolone questo l'abbiamo subito e rimonta finisce così eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale l'obiettivo della società l'abbiamo raggiunto perché era arrivare agli ottavi di Coppa Italia quindi l'abbiamo raggiunto però c'è capitato alla Roma che sulla carta è più forte di noi però per i tiri eravamo lì eh Lazio 78 Milan quindi abbiamo 3 punti addirittura dal quarto e quinto posto e ben 7 punti dal sesto posto eh questi sono punti importanti che potremmo anche perdere questo non è escluso ma però sono già punti importanti che abbiamo preso da Juventus sempre a più 4 da noi e penso che sia la candidata a vincere lo Scudetto meno che non perda tante partite perché se noi crolliamo dietro di lei c'è le più quotate Milan e Inter sono già meno 7 quindi e noi la prossima abbiamo subito nuovamente col Milan ancora offerta di trasferimento per Raspadori che ci hanno proposto Ugo Guigamon più 5 milioni e mezzo ma assolutamente no è un cdc ma buono perché 21 76 ma no 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 Raspadori se ne va quindi per oggi è tutto nella prossima diciamo nel prossimo episodio giocheremo sicuramente Milan Sampdoria non so se Sampdoria e Cagliari una tra di queste simuleremo quindi inizieremo poi il mese di febbraio se una di quelle due decido di simularle giocheremo anche la partita con la Juventus poi il mese di febbraio è tosto eh marzo intermedio eh aprile c'è Napoli Inter c'è la Lazio e fino alla fine bisognerà dare il 100% per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare ai 200 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye ciao 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 ciao